adesso tocca questa funzione di darvi la parola e come tocca a me entrare nel merito della della dei lavori e io avevo annunciato un titolo carlo reina irragionevole ma poi lavorando e riflettendo sul tema riformulerei e vi dico il titolo perché se è abbastanza enunciativo di quello che voglio qui delle osservazioni che voglio sviluppare e cioè reina d'annunzio mussolini il ragionevole lo scalmanato l'opportunista e cioè prendo lo spunto dalla biografia e dalla vicenda dal caso reina che è il personaggio diciamo così più noto e più che si è più si è esposto nel corso della spedizione di fiume poi della della gestione di questa di questa città il 19 e 20 come rappresentante delle della parte cosiddetta quella che è stata chiamata ragionevole in cui si articola il fronte dei legionari e anche dell'opinione pubblica di fronte allo sviluppo della vicenda fiumana questo per perché offre lo spunto a innanzitutto sottrarre la vicenda fiumana dalla diciamo così dalla santificazione o dalla condanna secondo di come la si è vista di una vicenda tutta scritta nel nome di dannunzio nello stesso tempo ci fa apparire come la dinamica la figura il il tratto caratterizzante del dannunzio politico sia un po da sottrarre a una specie di epopea eroica e con questo la chiusura il fallimento dell'impresa fiumana non sia né da inscrivere come prologo automatico della marcia su roma ma nello stesso tempo essere anche una grande avventura che si dipana senza un disegno prestabilito sulla base di forze e vicende che emergono e che si contrappongono strada facendo ecco brevemente io devo ricordare reina dedicato uno studio apposito quindi a cui rinvio naturalmente non starò qui a tediarvi su questo punto voglio solo richiamare che diciamo di la biografia di reina è un po l'archetipo del genere del giovane rampollo di buona famiglia che sposa una causa una carriera si immerge in questa identifica la sua vita con questa che lui crede una missione teniamo conto che è del 1881 quindi forma la sua la sua formazione culturale politica è totalmente immersa nel clima di acceso diciamo così di questa accensione patriottica che poi trascende presto in nazionalismo anche aggressivo e quindi questa vicenda diciamo così diciamo questa carriera militare diventa anche la sua la forma di storicizzarsi e di identificarsi con una con la sua vita con la causa della sua patria e quindi è totalmente è totalmente preso da questa vicenda vivendola fino a limiti della 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 sacrificio anche poi della sua successiva carriera politica e militare scusate naturalmente entra nel collegio militare romano prima della guerra nella nella guerra poi si farà come si usa dire onore riportando addirittura in alcune imprese talmente meriti da avere due medaglie una d'argento e una di bronzo e di fatto poi la sua vicenda si viene sovrapponendo con fiume perché tra il novembre e l'agosto del tra il novembre del 18 e l'agosto del 19 c'è la sua permanenza a fiume e naturalmente in questo caso la diciamo così la sua passione politica diciamo così ideale si viene saldando con una diciamo così con l'esperienza di vita immediato lui dice che qui ha avuto un'accoglienza indescrivibile che ovviamente c'è stato è stato accorto in un si vive in un delirio di gioia e questo dà molto l'impressione di ci illumina molto su quello che può essere stata la sua la sua innamoramento per la causa quello che è importante che lui dice anche che quando si è sul finire dell'estate pensato ad una ad adempiere alla promessa dei fiumani di essere ricongiunti alla madrepatria si è pensato ad annunzio ma si è pensato ad annunzio non come un capo militare bensì come come forse era la sua qualità di personaggio e lui dice come un capo per trascinare l'opinione pubblica se poi badate bene è la stessa motivazione che darà nitti quando più tardi si rivolgerà ad annunzio non per farne un capo politico antifascista ma perché dice con la tua le tue parole con la tua figura sapresti infiammare la gioventù italiana quindi già in questo c'è già una riserva nei confronti di dannunzio diciamo così leader carismatico grande comunicatore ma non capo militare politico natural ecco diversamente da le divisioni anche questa mattina nel caso della vicenda degli degli autonomi ha avuto una molto ben documentata relazione nel caso di reina e di molti che con lui vivono questa esperienza il distacco il disamore presto la delusione e poi diciamo così lo scontro con d'annunzio è molto è molto precoce non c'è bisogno che passino molti molti giorni perché il disincanto sia preso da questa parte di cui appunto reina è un portavoce dice che siccome io ho riportato un documento che vi dico e si è capito subito che il suo interessamento era maggiormente sulle questioni di politica interna che non sulle questioni di fiume italiana con tutto questo si aggiunge poi alla diciamo così allo sconcerto per come si svolge la vita all'interno di fiume no dice è diventato ricettacolo di avventurieri di ogni risma di veri e propri delinquenti e tutto questo gli fa nascere la convinzione che d'annunzio dopo aver conquistato con la parola roma due volte posso adesso conquistarla con le armi quindi da questo punto di vista cioè vedere fiume non essere più l'oggetto di questo slancio d'amore patriottico che ha mosso l'opinione pubblica italiana messa diventato l'obiettivo così il risultato l'obiettivo di un disegno politico ovviamente partigiano e crea questa grande frattura che si consuma rapidamente reina viene viene accusato di tradimento c'è una commissione d'inchiesta questa commissione d'inchiesta lo condanna due due mesi di carcere poi diciamo si viene mandato viene esiliato da fiume e comincia lì una sua battaglia anche giornalistica che ha una larga eco sui giornali naturalmente particolarmente sull'avanti perché si vuole dimostrare che quella di fiume non è una causa patriottica ma un disegno eversivo nelle mani di un di un presunto comandante che invece avrebbe tradito la causa per cui era partito ecco io voglio richiamavo questi punti perché visto da questo versante versante cioè dei ragionevoli che è una parte consistente dell'opinione pubblica dentro quella parte di legionari di popolazione di fiume e di opinione pubblica italiana che strada facendo si allontana e addirittura diventa contraria all'impresa di fiume in particolar modo alla gestione che d'annunzio fa qui paradossalmente se provate a riflettere entrambi sia reina diciamo sia d'annunzio sono stati condannati poi nella memoria a diventare due anelli di una catena causale che porta al fascismo uno per cui d'annunzio prima è l'eroe santificato dal fascismo poi diventa ovviamente il il duce che prepara e maestro della marcia su roma dopo la guerra nel caso invece dei ragionevoli come reina invece la sua condanna è di essere stato nel durante l'impresa e poi nel ventennio e la pagherà caro compromettendo interamente la sua carriera pensate che la famiglia tende le carte di reina addirittura conservate in una cassetta di sicurezza della paura che venissero trafugate per essere distrutte in maniera che non rimanesse prova di cosa aveva fatto secondo reina d'annunzio a fiume e anche dopo la guerra la parte dei ragionevoli è stata sostanzialmente condannata all'oblio perché in qualche misura erano pur sempre dei legionari era possibile che aveva fatto un atto di sedizione e come tali naturalmente nel clima di condanna del fascismo e dei suoi apostoli o eroi questo era era da condannare tutto questo per dire che va invece in questa dinamica in questa dinamica interna noi possiamo vedere in maniera più aderente alla realtà la contraddizione alla dinamica una vicenda che altrimenti risulta solo nel bene nel male l'epopea del comandante ecco primo punto che vorrei che vorrei sottolineare riguarda proprio diciamo così la cifra politica dell'impresa ecco il colpo di mano diciamo così con cui si avvia l'impresa non aveva inscritto fin dall'inizio che dovesse tradursi in un colpo di stato né in una marcia da ronchi dovesse traslursi nella marcia su roma suggestioni di questo tipo compariranno presto perché d'annunzio non nasconde la volontà di esportare addirittura fuori anche dall'italia la sua parola alata di rivoluzione mondiale ma tutto questo però non deve farci dimenticare che la traiettoria percorsa dalla durante la spedizione ha un suo percorso molto chiaro che va da un momento in cui c'è una grande adesione una grande partecipazione un grande sostegno all'impresa nell'esercito anche in coloro che non sono disposti a fare quel gesto di indisciplina e soprattutto nell'opinione pubblica che è talmente largo che spiana la strada e mette nelle condizioni di non nuocere o meglio di non reagire al governo legittimo di nitti che si rende conto che è una causa altrimenti altrimenti difficile da vincere ora questa questa grande ondata che sono sto qui richiamato voglio solo richiamare gli elementi che è una data di insieme di nazionalismo di patriottismo e di usiamo una parola di oggi antipolitica no una reazione contro la classe politica che per 60 anni ha governato che già in sottoschiaffo da almeno due decenni soprattutto dalle nuove generazioni intellettuali e non sto qui a richiamarvi prezzolini papini eccetera e che durante la guerra ha dato una prova fallimentare di sé prova fallimentare che è diventata sanzionata e quasi condannata all'udibrio e alla disgusto degli italiani con la condotta seguita alla parigi alla pagina con l'idea che l'italia avesse sprecato il sangue di una generazione di italiani che si erano immolati e che adesso si vedevano traditi quindi acquista un valore quasi sacrale no perché tradire un vive un conto ma tradire un eroe una generazione di eroi diventa molto più grave ecco questa vicenda che diciamo parte con una grande diciamo così supporto di consenso di adesione di simpatia e che viene sprecato e consumato strada facendo questo deriva in larga parte dal fatto che in alcune abbiamo già richiamato questa mattina alcuni passaggi passaggi importanti si comincia con il diciamo così il modus vivendi che è una prima elemento di rottura no poi passaggio quando entra in scena al ceste de ambris allora la parte diciamo degli scalmanati comincia ad avere strada libera finché abbiamo vicende dell'estate con chiarazione della regenza del carnaro la carta del carnaro che fa prendere una piega assolutamente con una connotazione politica molto chiara ma insieme anche nettamente eversiva che non può trovare consenso in chi come reina per esempio era aveva fatto questa diciamo così colpo di mano vivendolo come un gesto di indisciplina diciamo così veniale perché era molto aveva motivazioni nobili di volere forzare alla mano al governo italiano per portare a compiere una missione storica che era il compimento della grande di una grande italia e che invece adesso vede vede ridotti questi grandi disegni in meschili disegni politici che nella mentalità poi di un militare sembra avere inficiato la causa con bassi calcoli di tipo di tipo partigiano e politico che dividono l'italia invece di farne un coro in favore del del suo destino ecco vorrei fare poi una un'altra considerazione rispetterò anch'io il tempo che ci siamo destinati ancora sette minuti ho visto e lo rispetterò mi richiamo io all'ordine dunque sul quello che diciamo così è quello che è il profilo di denunzio politico su questo punto noi perché soprattutto con l'impresa di fiume dicevo prima la si è sempre trattata nel bene e male come l'epopea del comandante no per cui tutta la vicenda si risolve in i comportamenti le dichiarazioni le scelte e diciamo così alla fine il martirio così come rappresenta lui di un grande che si è dato come scrisse anche lui che ha dato tutto alla causa e viene tradito da anche dagli italiani no per cui un'ammarezza di avere fatto una grande scommessa eroica e di avere perso invece di essere stato tradito sostanzialmente dalla dalla da chi invece doveva sostenerlo ecco già dicevo prima se noi seguiamo le vicende dall'interno sotto lo spettro di chi non condivideva questo io parlo dei ragionevoli ma stamattina abbiamo parlato degli autonomi che vuol dire proprio nel cuore di fiume quelli che dovevano essere i suoi sostenitori senza dei quali d'annunzio non avrebbe potuto sperare di procedere sono i primi essere non solo diciamo così indotti alla dissociarsi dall'impresa ma combatterla apertamente quindi a isolare nel cuore stesso di di fiume la vicenda ecco e d'annunzio e qui entriamo nel merito del d'annunzio politico l'annunzio politico lo diceva te felice trent'anni fa nel primo convegno che è stato fatto proprio qui a gardone e si era soffermato sul profilo di della politicità di d'annunzio cioè è difficile pensare ad annunzio politico inteso come il portavoce di una causa politica o di un pensiero politico perché nel caso suo ma pensate solo quando si è fatto leggere in parlamento si è fatto leggere in parlamento non perché avesse un disegno una causa un progetto da poter sostenere nel nel lauree parlamentari ma anche quello è molto più un gesto con cui pensa di esprimere la sua personalità che è una personalità di letterato di artista di uomo che dalla politica non chiede un risultato ma chiede un successo chiede una rappresentazione tanto è vero che della mente passa dalla sponda della sinistra liberale a quella di destra e cosa dice dice appunto vado verso la pazia che provate a vedere un po la stesso motto che viene pronunciato da marco che mette in bocca a marco grattico nella nave quando dice arma la prola la prora e salpa nel mondo che cosa vuol dire politicamente vuol dire apriti un'avventura no e non si sa dove dove nel mondo andrà su quale spiaggia l'importante è appunto partire dal sulla nave naturalmente non è che con questo che fosse come si usa dire oggi in maniera ipocrita e sfuggente che non fosse né di destra né di sinistra né che non avesse un mondo di valori e dico e di orientamenti politici li aveva espressi bene nelle sue opere ma anche nel suo stile di vita no cioè non sto qui a ripetere l'estetica decadentismo super romismo tutto quanto vi cito solo una frase quando proprio entra sul palcoscenico politico con una parte portavoce e primo e primo sostenitore dell'interventismo uno pensa che abbia un suo progetto politico almeno in questo momento che esce dalle si toglie le veste di letterato e diventi un uomo politico e quando invece scoppiata la guerra il governo italiano gli impedisce di entrare nel mentre entrare in prima linea nelle operazioni militari cosa fa d'annunzio scrive tutti i miei libri non valgono non la causa dell'italia o della guerra l'ora di ebrezza che mi è stata tolta cioè è un'ora di ebrezza non è una causa da vincere o da espletare ecco in lui naturalmente qual è il disegno politico ci sono alcuni sentimenti politici specifici ma più che nazionalismo è un acceso patriottismo il suo è un po fago ma una in cui che ha avuto la sua esaltazione eroica nella sua esperienza durante la guerra che gli ha fatto conoscere anche l'orrore della guerra ma in questo anche la bellezza dell'eroismo e della morte ecco qualche naturalmente andrebbero meglio argomentate queste io nel testo cercherò cercato di farlo mi limito a dire che più che i contenuti più che gli stessi risultati ad annunzio contano le forme l'aveva già scritto vivarelli un po di anni fa e tutto questo per dire che c'è una protagonismo che è un po fine a se stesso in cui il bel gesto la provocazione il l'essere protagonista è addirittura artefice della storia di fargli da questa che lui chiama un'ebbrezza indicibile tutto questo naturalmente non può ha fatto parlare a molti di una forma di sacralizzazione della politica che gli fa bruciare tutto quello che è la dimensione dei metodi dei valori delle pratiche della democrazia moderna non dico nulla di nuovo dicendo che c'è un dileggiamento della del parlamento della della politica no la usa anche lui la casta politica no l'odiosa casta politica e quindi tutto questo è come scritto anche recentemente miglio gentile no porta la vicenda di fiuma in una in un'arena in un alone di avventura in cui tutto diventa un po possibile e a questo punto tutto diventa anche diventa una specie di provocazione continua prescindendo da l'obiettivo che si vuole ottenere che è ciò che è più lontano dal dall'arte politica diciamo no che è la commisurazione dei fini dei mezzi ai fini e in particolar modo la valutazione delle condizioni reali in cui si svolge l'iniziativa secondo dato che connota connota l'azione politica di danutio soprattutto fiume è il fatto che mentre si rappresenta come il comandante il creatore di storia colui che quasi un duce diciamo così nei fatti anche questo l'aveva già sottolineato 30 anni 40 anni fa ormai è felice che andrebbe proprio indagato invece quello che è il suo entourage quello che è lo staff dei suoi collaboratori a cui lui demanda di fatto poi la gestione e si abbandona non perché vuole creare una condivisione di un destino e va e valuta il valore dei collaboratori ma perché sostanzialmente poi la traduzione del delle sue parole d'ordine infatti concreti avviene un po sull'onda dell'emozione non sulla base di un rapporto di logica tra intenti e mezzi infine volevo svolgere alla luce di queste annotazioni che ho fatto prima brevemente tornarsi entrando nel tema che è una questione che rimbazza continuamente quando si parla di d'annunzio la sua consegna all'immagine di diciamo così maestro di mussolini o anticipatore no fiume la marcia dei bronchi come il laboratorio della della marcia della marcia su roma in questo secondo poche osservazioni che che voglio fare qui per non prolungarmi troppo dovrebbe invece indurci a cercare di fare una disanima di ciò che è in consonanza con mussolini da ciò che invece è dissonante e dissonante innanzitutto dicevo prima questa vicenda mentre per mussolini la marcia su roma è una cosa estremendamente seria e ben insoppesata nel caso di fiume se non è un'avventura letteraria non è molto non è molto di più e in questo non si può non notare come ci sia un atteggiamento nei confronti della dinamica che si svolge che è travolgente e drammatica in questi mesi come sostanzialmente nel vivo della vicenda d'annunzio non non prenda non prenda lezione dalle cose non prendere non prende atto che è cambiato lo scenario politico con l'entrata in guerra degli stati uniti rispetto alla situazione politica ante guerra non prende atto dei vari passaggi che vive la vicenda politiana voleva la caduta di miti non la ottiene miti e convoca le elezioni con le elezioni sostanzialmente entra nel parlamento per la prima volta a stragrande maggioranza i neutralisti popolari socialisti giolidiani e quindi le carte in tavola stanno cambiando è un bravo politico e se non altro fa un passo indietro per fare poi magari due salti in avanti ma nel passo indietro non potevano farlo e invece poi ci sono le varie vicende modus vivendi e la sua invece è una progressione per consumare quella rete di appoggi di occasioni di sostegni che il che di cui è imprescindibile tenga conto un politico che vuole soprattutto a avventurarsi in una grande forzatura che è la sfida al potere i costituiti in questo è veramente il contrario di mussolini e io lo dico opportunista per dire potremmo dire anche il realista da questo punto di vista ora che mussolini a mussolini sia riuscita l'impresa dalla marcia su roma diversamente dall annunzio a me ci sono tanti fattori di mezzo ma non si può negare che in lui ci sia una perfetta lucidità c'è in mussolini un atteggiamento tattico per cui in pubblico non vuole perdere il contatto con tutta questa grande onda nazionalista che vede in annunzio il personaggio di difendere quindi non può mettersi contro ma nello stesso tempo sappiamo che l'ultra documentato che sa benissimo che la cosa non può riuscire è in contatto con il il prefetto di milano attraverso il prefetto di milano non è certamente contrario al modus vivendi e poi al trattato di rapallo e anche alla forzatura del natale di sangue e lui dice molto espressamente le rivoluzioni non si fanno contro l'esercito ma con l'esercito con le armi non senza le armi con movimenti di reparti inquadrati non con masse amorfe chiamata comizi di piazza riescono quando le circonda un alone di simpatie da parte della maggioranza se no gelano e falliscono ora nella tragedia fiumana esercito e nazione cioè potere diciamo così repressivo e potere ideologico se vogliamo usare termini politologici e non defezionano e quindi è una causa persa e lo sbaglio ancora maggiore questo forse era più difficile da cogliere da parte di di danuzio sbaglio che insieme anche una distanza notevole da mussolini anzi net non si rende conto che proprio in questi mesi si sta consumando il passaggio dal fascismo urbano al fascismo agrario che è un salto di qualità nel quale il fascismo dalla polemica coi socialisti ma sostanzialmente anche contro i liberali a un certo punto come scrive nella primavera del 20 cesare rossi lui dice regime attuale non è davvero quello a noi più caro ma ci appare infinitamente migliore di quello che sarebbe garantito dalla dittatura della testa dei socialisti cioè non c'è un triangolo ci sono due parti e il fascismo nettamente si è messo dalla parte che invece che invece d'annunzio vorrebbe abbattere quindi è ulteriormente è ulteriormente è ulteriormente è ulteriormente distante e non può essere identificato da un punto di vista generale da questo punto di vista naturalmente poi non sto qui a richiamare la carta del carnaro come come anche il fatto che se c'è qualcosa di estraneo a d'annunzio da questo punto di vista non gli fa che onore il militarismo e l'idea del totalitarismo cioè di un potere assoluto dello stato che ingloba la dimensione anche personale privata e sapete poi che dopo il 20 anche questa deriva un po di distacco se non di dissenso dal su cui non mi soffermo è già stato scritto molto si sofferma molto anche guerri nel suo ultimo bel libro disobbedisco e ma quel che voglio quel che voglio finire per concludere è che ci sono poi elementi però che non possono essere sottaciuti di consonanza del fascismo col fiumanismo e di dannunzio in particolare la prima cosa è diciamo così questa volontà di rottura frontale e di dell'ordine costituito democratico e della sua classe dirigente gli inetti dell'odiosa casta politica il rifiuto del ceto politico la rabbia contro l'ordine costituito e in questo punto di vista c'è si brucia ogni ogni consenso si aiuta a bruciare ogni consenso nei confronti del della delle istituzioni democratiche cioè non sto qui a ricordare no stamattina è stato ricordato il disprezzo con cui liquida il plebiscito no non siamo a alle espressioni di di mussolini ma ma non si cambia molto e poi c'è questa idea di di una rigenerazione dell'italia far l'italia nuova la sua espressione no e per lui fiume è il super mondo rispetto a montecitorio che è il sottomondo cioè che sono proprio due realtà e da questo punto di vista normalmente c'è l'antipolitica c'è il populismo autoritario c'è molto altro e da questo punto di vista in qualche misura fa un lavoro nell'opinione pubblica nell'immaginario degli italiani che brucia già la scarsa le scasse base di consenso che ha il potere costituito e ultima cosa dico che è difficile da questo punto di vista anche assimilare o identificare peggio la vicenda e il magistero di politico di denunzio con quello di di mussolini anche per la contraddittoria età che contraddistingue l'azione di modi cioè se noi guardiamo la carta del carnaro siamo con uno dei testi più diciamo così più democratici della vita però cioè se noi guardiamo poi i comportamenti voglio dire non solo la bocciatura del plebiscito ma la gestione di tutti i suoi avversari che diventano nemici no e da questo punto di vista non è proprio un grande magistero di democrazia da questo punto di vista così come la politica estera che per lui è una politica di potenza e vuole far la lega di fiume per i popoli oppressi o i popoli che sono schiavi delle grandi potenze però voglio dire la politica estera dell'italia che lui caldeggia e che poi conduce nei confronti dei croati non è proprio il riscatto dei popoli oppressi ecco tutto questo per dire che un invito a vedere alla vicenda di fiume non consegnata all'esito finale come se fosse predestinata a diventare un anello di una catena causale che non può che finire nel fascismo ma di una vicenda complessa in cui i passaggi sono passaggi che si consumano sull'onda dei comportamenti e delle opportunità e che ovviamente ha elementi di consonanza ma anche di grande dissonanza rispetto all'esito che avrà poi col fascismo